continuano i nostri confronti con i portatili e dopo aver recensito il lenovo legend y540 vi proponiamo la soluzione di cassager nello specifico il modello nitro 5 si tratta di un pc portatile di fascia medio alta con componenti hardware di tutto rispetto se sei quindi intenzionato ad acquistare un notebook da gaming ma non sai quale scegliere ti invito a guardare fino alla fine questa recensione perché potrebbe essere il pc adatto ad ogni tua esigenza ma prima di proseguire con la recensione volevo dirvi soltanto due cose questo non è un video sponsorizzato ma è una semplice recensione ho acquistato questo computer per conto di un amico e per diversi giorni ho avuto modo di testarlo visto che il canale tratta argomenti di questo tipo mi sono detto perché non portare una video recensione e così è stato come seconda cosa invece volevo dirvi che in descrizione e nelle schede qui in alto vi lascerò il video sui migliori notebook da gaming del 2020 qualora questo modello non vi dovesse soddisfare acer è considerato uno dei brand più importanti per quanto riguarda la produzione di notebook windows essenzialmente adatti ad ogni tipo di impiego l'azienda taiwanese produce milioni di unità ogni anno e questa la rendono un brand di prima scelta per quanto concerne l'acquisto di un nuovo notebook stando ai dati reperibili su wikipedia acer in italia è il marchio con la maggiore quota di mercato per quanto riguarda i computer portatili fatta questa breve introduzione mettiamolo sotto una lente di ingrandimento e scopriamo tutti i dettagli la prima cosa che mi viene da dire è che l'acernitro 5 è un laptop rivolto principalmente al gaming in mobilità per quanto riguarda i materiali e la qualità costruttiva questo modello è realizzato per lo più in plastica lo so è una scelta che potrebbe fare storcere il naso a molti di voi ma che possiede sicuramente la sua dose di vantaggi come ad esempio la capacità di mantenere contenuto il peso nonostante le sue dimensioni e le componenti ardure presenti al suo interno nonostante ciò il design risulta abbastanza minimal e non è eccessivamente tamarro rendendolo così adatto a tutti ma soprattutto ai content creators o ai gamer che necessitano di tanta potenza ma in mobilità di acernitro 5 ne esiste più di uno e i modelli sono più o meno simili fra loro il modello in nostro possesso è la n515 questo computer monta un display lcd ips full hd da 60 hertz la frequenza di aggiornamento non è alta ma è di sicuro la soluzione migliore visto che la scheda video installata è una gtx 1650 da 4 gigabyte era alquanto inutile mettere un display con una frequenza di aggiornamento maggiore in quanto secondo me non l'avreste sfruttata appieno per quanto riguarda invece il processore troviamo un intel core i7 9750 h dotato di 6 core e 12 thread che funziona ad una velocità di base di 2,6 gigahertz e raggiunge i 5 gigahertz in turbo boost completano il tutto i 16 gigabyte di ram ddr4 e un ssd in vme da un terabyte che rende molto veloce anche la fase di accensione mi piace molto il fatto che lo spazio di archiviazione è espandibile infatti sono disponibili due slot ssd e uno slot per un eventuale hard disk la tastiera a mio avviso è di buona fattura e la retroilluminazione permette di vedere bene in qualsiasi condizione i tasti rispondono bene ai comandi e il touchpad è onesto per quanto riguarda la gestione termica il sistema di dissipazione sembra funzionare bene riuscendo sempre a mantenere la cpu in un range di temperature che va dai 50 ai 70 gradi un comportamento piuttosto comune per quanto riguarda i laptop da gaming cpu e gpu vengono sfruttate bene non c'è traccia di thermal throttling nemmeno sotto stress e questa è senz'altro una buona notizia tutto questo si traduce in prestazioni davvero eccellenti in ogni ambito dell'uso quotidiano con un computer che riesce a comportarsi sempre molto bene e a completare i compiti assegnati con celerità ed affidabilità come su tutti i notebook da gaming l'autonomia è sempre il lato più difficile da valutare in quanto la durata dipende sempre dall'utilizzo che se ne fa con un utilizzo piuttosto leggero che vede coinvolta la navigazione web lo streaming il foto editing e la modifica di documenti con programmi come office la cernitro 5 raggiunge un ottimo risultato di circa 7 8 ore complessive lato gaming invece resiste all'incirca due ore e mezzo abilitando la gpu dedicata è un'ora complessiva con luminosità e prestazioni al massimo lato gaming Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Per concludere possiamo dire che l'Acer Nitro 5 è un laptop da gaming che può risultare sicuramente molto interessante per chi necessita e desidera giocare in mobilità in maniera piuttosto dignitosa. Soprattutto se si considera il prezzo a cui è stato acquistato. Io personalmente l'ho preso a 989€ in offerta lampo. Di listino su Amazon costa intorno alle 1200-1300€. Un prezzo leggermente alto rispetto alle concorrenti che vendono dispositivi con schede RTX e pannelli con una frequenza di aggiornamento superiore. Questo prodotto è stato segnalato più volte sul mio canale Telegram e vi invito quindi ad entrare se volete approfittare di queste super offerte. Accedervi è completamente gratuito e ogni giorno vengono pubblicati codici sconto esclusivi, offerte irripetibili ed errori di prezzo su prodotti di qualsiasi tipo come hardware, software, abbigliamento, oggetti per la casa, accessori vari e tanto altro. Detto c'è ragazzi il video è giunto al termine vi invito a lasciare un bel mi piace al video, commentare se qualcosa non vi è chiaro e iscrivervi al canale attivando la campanella delle notifiche presente lì di fianco così da non perdervi i miei prossimi video. Con questo il video è giunto al termine ci vediamo ad un prossimo video. Ciao! Ciao!